Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Di dati, di tracce che i nostri viaggiatori, visitatori lasciano online, di cosa si fa e si può fare per intercettarle e come utilizzarle. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno, grazie ancora. Mi chiamo Eurobeinat, io lavoro in due settori principalmente. Il primo è l'internet delle cose, quindi lavoro con agenzie, governi e multinazionali per capire come connette il mondo fisico e quello digitale. E poi lavoro come professore universitario con un team dell'Università di Salisburgo e mi occupo di ricostruire la dinamica dei sistemi attraverso le tracce che noi lasciamo. Noi chiamiamo questa disciplina Collective Sensing. Quindi abbiamo chiesto di dividere la presentazione in due parti. La prima è di raccontare quello che abbiamo visto negli ultimi anni di quello che è cambiato in questo settore che spesso chiamiamo Big Data. La seconda è di far vedere un po' di implementazione nel mondo del turismo e farò vedere alcune cose sull'Italia in particolare. Quindi partiamo dalla prima parte, è questa. Questa è una delle prime applicazioni che ha fatto moltissimo scalpore ed è fatta da Target. Target è una grande catena di distribuzione americana che ha messo in piedi un sistema di monitoraggio degli acquisti che lega quello che noi facciamo nei negozi a quello che facciamo sul web per capire quali sono i momenti di cambiamento. I momenti di cambiamento sono cambiamo casa, cambiamo lavoro, una gravidanza e così via. Sono i momenti in cui noi cambiamo le nostre abitudini. Quindi ha fatto scalpore perché hanno spedito una serie di coupon, pensavo di coupon in giro per l'America. Un padre di famiglia l'ha ricevuto, indirizzato alla figlia, pensato che fosse semplicemente qualcosa, un'offerta, l'ha aperta e c'era congratulazioni per la gravidanza. Solo che la ragazza aveva 17 anni. Il padre chiama Target dicendo che si vergognino sostanzialmente e loro dicono ci scusiamo, controlli gli algoritmi, gli algoritmi però confermavano la cosa. Due o tre giorni dopo il padre chiama Target dicendo mi scuso io perché effettivamente a casa succedevano molte più cose di quelle che noi eravamo al corrente. Quindi c'è un'abilità estremamente puntuale di capire qual è il comportamento delle persone sulle tracce, in questo caso, degli acquisti. Ed è uno dei primi casi che poi ha fatto moltissimo scalpore. Altre organizzazioni stanno utilizzando la stessa idea di raccogliere dati a proposito delle persone, in questo caso per fare il login automatico. Questo è un piccolo oggettino che misura il battito cardiaco. Il battito cardiaco è come la firma, è come l'iride, è qualcosa di personale. Quindi noi avviciniamo la mano al computer, questo fa login, allontaniamo, fa logout, perché ci riconosce. Le stesse tecniche, la stessa matematica di questi due sistemi è anche applicata in quello che forse è l'esempio più accattivante degli ultimi anni. Il 2011 questo Geopardy, un programma televisivo americano, è un programma quiz, per cui le domande sono tipicamente molto complesse, anche formulate in maniera strana, che richiede tipicamente l'interpretazione umana. Molti computer hanno provato a battere i campioni di Geopardy, sono mai riusciti a farlo. Fino nel 2011, quando Watson ha partecipato a questa trasmissione, è abbattuto questi due, che sono i concorrenti storici, a man bassa. Watson non sa esattamente cosa significano le domande, non sa nemmeno cosa significano le risposte. Però è stato allenato, su una quantità enorme di dati, a capire la relazione tra queste due. Quindi non ha assolutamente idea di quello che sta facendo, ma lo fa bene, molto meglio degli umani. Obama ha vinto la sua campagna grazie a molti... Anche molti umani non hanno idea di quello. Questo è vero, però in questo caso qua è sicuro. Obama ha utilizzato moltissime queste tecniche per capire come indirizzare la propria campagna. Questi sono i risultati che noi avevamo, vedevamo dai giornali, che sono i risultati dei sondaggi, vedete la linea arancio, che davano la campagna elettorale fino alla fine molto incerta. La linea blu invece è quello che vedeva il team di Obama, un data team, 70 persone che hanno modellato 250 milioni di americani come atomi, per capire esattamente quello che facevano ogni giorno, e ogni sera ricalcolavano la probabilità se Obama o Romney vincesse. Quello che loro vedevano lì dentro, per loro non c'è mai stata differenza. Quindi un vantaggio strategico fondamentale che probabilmente ha determinato in parte il risultato dell'elezione finale. Tutto questo ha a che fare con questo diagramma, che se nel 2005 noi pubblicavamo internet delle cose, le transazioni, qualsiasi strumento a nostra disposizione, una certa quantità di dati, nel 2020 questa quantità è circa 300 volte più grande. Quindi il numero di dati digitali che noi produciamo raddoppia circa ogni 18 mesi, un anno e mezzo circa. E dentro c'è di tutto chiaramente, ma sostanzialmente la ragione è che qualsiasi attività umana, come la concepiamo adesso noi, è mediata da una macchina. Significa che ogni volta che noi facciamo qualcosa lasciamo una traccia. Queste tracce individualmente sono chiaramente da proteggere, perché sono nostre, ma collettivamente raccontano tutto quello che noi facciamo e lo possiamo utilizzare. Se troviamo il bilanciamento giusto naturalmente, perché è un territorio in qualche modo, abbastanza scivoloso. In parallelo a questo, c'è anche questo diagramma che dice che non solo i dati crescono, ma anche la nostra capacità di gestirli cresce. Questa è la legge di Moore, ma solo la legge di Moore è stata formulata da uno dei fondatori di Intel, che dice che il numero di transistor in un chip raddoppia circa ogni 18 mesi. C'è qualcuno che si è preso la briga di andare indietro un centinaio di anni e capire se questo valeva per tutte le tecnologie precedenti. E quello che sembra succedere è che tutto quello che ha a che fare con la computazione segue la legge di Moore già da cento anni. E non c'è ragione di pensare che finisca in questo momento, probabilmente continuerà ancora. Che significa che non solo generiamo i dati e raddoppiamo ogni anno e mezzo, ma anche la nostra capacità di gestire questi dati raddoppia più o meno la stessa velocità. Tutto questo ha a che fare col termine big data, che è un termine che noi non utilizziamo più, perché è un termine talmente mal concepito che tipicamente non aiuta moltissimo a capire. Ma per capire un pochino cosa abbiamo in mente con big data è utile seguire questa sequenza di transazioni. Allora immaginiamo di analizzare le transazioni di una persona, gli acquisti. Se io compro un libro, l'unica cosa che chi l'ha venduto il libro sa di me è che ho acquistato quell'oggetto lì. Un punto di dati non significa niente, non so niente. Se registro anche tutte le mie transazioni, tutti i miei acquisti, ottengo quello che si dice un pattern. Un pattern dice che per esempio io faccio acquisti di giovedì e di sabato. Se registro anche tutte le transazioni di persone simili a me, faccio quello che fa Amazon. Compro questo libro e mi dice che ti potrebbe anche piacere questo. Sono i segmenti, riesco a segmentare il comportamento delle varie persone. Se oltre a questo registro anche la localizzazione, il momento, il clima, il tempo, quello che vi pare, eccetera. Quindi aggiungo tutta una serie di informazioni ulteriori, riesco a mettere tutte queste transazioni nel contesto dei dati. Si chiamano profili. Potrei per esempio riuscire a prevedere su questa base oppure stabilire che una transazione è fraudolenta e quindi la blocco. Se oltre a questo, invece di avere questo, anche milioni di transazioni con gli stessi dati, riesco a trasferire sempre di più questa analisi dalle persone alle macchine. Le macchine lo fanno automaticamente. Quindi da sopra a sotto è quello che succede passando dai dati a big data. Che non è semplicemente una questione di quantità, è una questione di quantità, questione di tipo di dati, di metodi e anche il trasferimento di meccanismi dalle persone alle macchine. C'è moltissima automazione in questa transazione. Per cui big data di fatto non significa niente. È un ecosistema di metodi e strumenti che è molto complicato e il termine stesso non è molto utilissimo. Dove lo utilizziamo? In tantissimi settori. Per esempio quello della gravidanza di target, l'abbiamo visto prima. Ma ci sono anche applicazioni estreme. Per esempio la Pennsylvania Parole Board, che dovrebbe essere il giudice di, non so come si dica in italiano, quello che insomma in qualche modo rilascia le persone su cauzione. Bene, queste utilizzano degli algoritmi per prevedere se le persone commetteranno crimine di nuovo prima di rilasciarle. Quindi non è solo un giudizio delle persone, ma un giudizio delle persone assieme agli algoritmi. La stessa cosa al Pittsburgh Medical, che prima di mandare a casa le persone dopo un intervento, consulta un algoritmo per vedere qual è la probabilità che vengono riamesse dopo 30 giorni. E a seconda del risultato decide se dimetterle o meno. Oppure HP, che utilizza i dati dei propri dipendenti per identificare quelli che potrebbero in qualche modo lasciare. In questo settore, nel mio settore, il problema è trovare gente che lavori per noi. Non è effettivamente troppo la mancanza di lavoro. Quindi quando hai delle persone brave te le tieni tipicamente. Quindi questo è il contesto. Se noi andiamo a vedere quello che si può fare nel turismo, vi faccio vedere una serie di risultati legati all'Italia. Questi risultati sono basati su dati di social media, quasi sempre Twitter, con dati di transazioni telefoniche, con open data, che sono stati modellati e lì dentro ci sono una serie di modelli tipici, più machine learning, deep learning, quello che si chiama adesso, dai quali estraiamo collective behavior, segmenti e così via. E da lì chiaramente poi ci potrebbe essere l'utilizzo. Vi faccio vedere un po' di cose. Le prime cose sono semplicemente rappresentazioni. Con questi dati, i nuovi dati, così come li chiamiamo, la prima cosa è che possiamo creare trasparenza. Questa trasparenza per esempio è quella che vi fa vedere dove sono tutti i turisti di tutte le nazioni, in questo caso il 2013. In realtà i dati li abbiamo fino a questa mattina, ma la visualizzazione credo copra solo il 2013. Questa è l'Italia, la Presidente dei turisti italiani nel 2013. E la dinamica durante l'estate. Vedete quello che già sappiamo in qualche modo, quindi poche zone che catturano la gran parte del turismo. Naturalmente se segmentiamo rispetto alle nazioni, vedete che i cinesi non vengono in Italia, vengono in quattro posti in Italia, sono Firenze, Venezia, Roma e Milano, perché non la conoscono ancora molto bene. E naturalmente la loro variazione temporale è molto più segnata, c'è molto più variazione temporale. Se guardiamo i tedeschi invece, i tedeschi vedono la prima sabbia, che è nel nord Italia, e questo è come si distribuiscono nel territorio. Vedete che poi invece d'estate c'è una certa presenza di tedeschi nel sud. Quindi questa è semplicemente trasparenza che creiamo nel sistema. Se questa trasparenza poi andiamo a cercare di misurarla, questa è la misurazione di un evento, che si chiama SAIL, fatto ad Amsterdam, questi grandi velieri arrivano nella città ogni cinque anni, moltissime persone vengono a vedere questo evento e vogliamo capire quanta gente attrae. E quanta gente attrae, in questo caso qua, lo facciamo sempre sulla stima dei dati telefonici. Dati telefonici che vengono modellati per misurare il numero di persone. E questo è il numero di persone, quindi 1.030.816 visitatori su cinque giorni. Non sono sicuro a proposito del 16, però sul 1.030.000 è abbastanza. Sappiamo anche che il 90% circa sono olandesi, il resto sono delle altre nazionalità. Quindi questo evento qua ha 100.000 stranieri in cinque giorni, quindi 20.000 al giorno. Non so quanto sia costato, ma non è un risultato colossale dal punto di vista dell'influsso. Quindi questa misurazione qua potrebbe essere utilissima a capire qual è la relazione tra investimenti e risultati. Se poi andiamo a vedere nel dettaglio, vedete la riga gialla, sono il comportamento nei cinque giorni, nella settimana prima. La riga arancio è il comportamento nella zona dell'evento, durante l'evento. Quindi la differenza tra queste due è l'impatto dell'evento stesso. Nella zona dell'evento ovviamente l'impatto è grande, nella città, nel centro città, l'impatto è invece un po' più piccolo. Così come noi adesso abbiamo un forte evento in questa zona qua circoscritta della città, e alcuni di noi chiaramente avranno un impatto anche sulla città dal punto di vista di consumo e così via. Tornando in Italia, sugli stessi dati possiamo andare a capire, per ogni visita di uno straniero in Italia, quanti posti andrà a visitare. L'Italia qua è divisa da tutte le città, da una serie di zone, c'è un centinaio di posti. Qui vedete che i cinesi tendono a visitare uno o due posti, i tedeschi soprattutto un posto, però se visitano un posto o visitano a nord, se visitano più di un posto tendono a visitarlo al sud, mentre i cinesi hanno un baricentro della loro visita in Italia attorno a Venezia. Questo è come arrivano in Italia i cinesi e i tedeschi, chiaramente i tedeschi arrivano via terra, ma anche molti cinesi arrivano via terra. Questo per voi probabilmente non è assolutamente sorprendente, ma per noi che abbiamo analizzato queste cose qua è abbastanza sorprendente, perché non è la cosa più avvia da fare. Di fatto quello che succede è questo, è che gli arrivi e le partenze dei cinesi sono asimmetrici, per cui arrivano molti via terra, vedete la parte a sinistra, però poi ripartono molto di più via aria. Quindi i cinesi non vengono in Italia, vengono in Europa e poi dall'Europa fanno il giro in Italia, poi cambiano così. Non vengono nemmeno in Europa e in Italia, vengono in un gruppo di città. Questo è quello che loro vedono e questo dovrebbe essere probabilmente anche il contesto della promozione, perché questo è il risultato. Questo è complicato, ma sulla stessa base di dati abbiamo l'origine e destinazione tra tutte le città. Questo circolo qua sono tutte le città che abbiamo scelto, queste righe qua sono il numero di turisti che vanno da un posto all'altro continuamente. Quindi è come se le città si in qualche modo contendessero i turisti, qui vedete qual è la misura di quelli che sono i flussi tra uno e l'altro. Però se noi andiamo a vederlo nel dettaglio, questa è probabilmente la rappresentazione più interessante. Quello che abbiamo fatto, abbiamo preso tutti i turisti che abbiamo visto a Milano in un certo giorno, credo fosse il 20 giugno dell'altro anno, abbiamo fatto un lock. Questa è la città in questo momento, questi sono tutti i turisti. si è andati indietro nel tempo, abbiamo visto dove arrivavano e li abbiamo lasciati. E quindi i turisti hanno fatto quello che effettivamente hanno fatto, sono andati verso Milano. Qui ovviamente potete scegliere Milano piuttosto da Venezia e così via. Vi dà l'idea qual è la dinamica dei turisti che arrivano a Milano. Da dove arrivano, in quanti arrivano, che percorso fanno e come lo fanno. Qui vedete che Milano si comporta come un aspirapolvere e attrae tutti i turisti. Non so. Questa poi è invece la misura di questo fenomeno, rappresentata in maniera più semplice. Se noi avessimo anche dei dati di tipo bancario, come quelli di BBVA in Spagna, questa è una rappresentazione di quanto la gente spende nelle strade di Madrid durante un evento, credo sia il Gay Pride, ed è basato su tutte le transazioni bancarie fatte dalle persone in questo periodo. Vedete che chiaramente più rosso spendono di più, giallo spendono di meno. Non abbiamo a disposizione questi dati in Italia, ma possiamo modellizzarli in questo modo. Questo è un modello che prende le transazioni telefoniche con i dati noti di spesa dei turisti e crea un modello che dice che se in una certa zona questo è il profilo di traffico telefonico, allora questa è la quantità di soldi che le persone spendono in quella zona, giorno per giorno. E quindi è un modello che riesce a prevedere spesa sulla base del nostro comportamento sulla rete, in questo caso telefonica. E questo ci permette di dire quali sono le zone dove c'è tanta gente spende tanta, dove c'è poca gente spendono tantissimo, sono le zone dei VIP, oppure dove c'è tantissima gente spendono pochissimo, che sono quelle dove di fatto c'è solo un impatto di volume. Questo io lo salto perché non abbiamo moltissimo tempo e vorrei farvi vedere questo. Questo è il lavoro che stiamo facendo in questo momento ed è il lavoro più complicato di tutti ed è quello di prevedere dove andranno i turisti dopo. Questi sono di nuovo i tedeschi e i cinesi e questa è la previsione di quei turisti che ne abbiamo trovato a Milano prima, il 20 giugno, dove andranno dopo due giorni. Il modello è tanto che banale perché utilizziamo quello che si chiama un modello atomico in cui ogni turista, ogni individuo, è di fatto un modello di previsione. Quindi questi sono circa 20 milioni di modelli di previsione e il risultato complessivo è un altro modello che prende ognuno di questi e cerca di stimare. In questo momento siamo abbastanza sicuri di riuscire a prevedere circa due giorni in anticipo. Quindi se noi abbiamo i turisti in una certa zona riusciamo a prevedere dopo due giorni in che modo si muoveranno e dove andranno. Stiamo anche lavorando su dati che sono la combinazione di quello che succede su web e quello che succede sul territorio per andare a prevedere non su due giorni ma su sei mesi. Per cui se noi vediamo questo che succede su web riusciamo a dire che a Venezia ci sarà questo tipo di turismo fra sei mesi con queste caratteristiche, con questa capacità di spesa, con questa composizione nazionale. In realtà queste cose qua sono algoritmi e matematiche che sono state sviluppate una ventina di anni fa. Sono tutte rete neurali che vent'anni fa erano interessanti dal punto di vista scientifico ma non avevano quasi applicazioni perché non c'erano dati per far imparare la rete e come funzionare e non c'era neanche abbastanza capacità computazionale per farlo a prezzi ragionevoli. Invece queste cose qua si possono fare in questo momento per cui tantissima gente che si occupa di data science, data analytics e nel turismo sta facendo effettivamente queste cose. E queste sono di fatto le tre principali linee di sviluppo in questo momento. da un lato le previsioni a breve dall'altro le previsioni a lungo mettendo assieme dati di caratteristiche diverse e chiaramente in tutto questo una delle grandi bancanze che troviamo è lo sviluppo degli skill le capacità delle persone di mettere assieme tutte le competenze che sono necessarie a fare questo. Se voi andate a Stanford il corso più popolare, popolare com'è che si dice il corso più famoso frequentato in questo momento di Stanford è machine learning 800 studenti ed è uno dei corsi che ha il più alto livello di richieste devono sapere analisi 2 analisi lineare, statistica e programmare 800 studenti che seguono questa cosa qua che vi dà un po' l'idea di quello che sia in qualche modo il contesto in questo momento. Grazie. Beh, mi sembra a parte l'ovvio interesse mi sembra che ci siano due messaggi molto importanti qua uno è che le tracce che lasciamo sono analizzabili sono analizzabili anche se la cosa non è delle più banali e non è delle più semplici e soprattutto richiede grande concentrazione sull'obiettivo dell'analisi nel senso che abbiamo milioni di cose là fuori andare a casaccio non porta a casa nulla se non hai un obiettivo preciso e l'altro che mi fa molto piacere perché è una delle cose sulle quali io punto molto è il fatto che la ricerca di base è fondamentale in questi campi perché senza quello che è stato fatto qualche anno fa di ricerca che sembrava quella che quasi tutti accusano noi accademici di fare perché ci divertiamo e basta poi da questo tipo di risultati Luca la tua visione a parte il fatto che c'è qualcosa di strambo qua perché voi siete degli esperti e sono giornalista e devo fare quello che parla posso per la verità reagire con da un lato ovviamente con il senso di fascinazione per questo modo di guardare le cose che evidentemente fa trasparire delle possibilità straordinarie già adesso colte ma in generale ancora da esplorare e da sviluppare quello che come dire mi viene da osservare è questo la questione dei grandi volumi di dati che si distingue dal modo con il quale raccoglievamo i dati prima cioè con dei campioni che erano quindi delle modalità statistiche per fare poche interviste per raccogliere per avere diciamo dei dati che costava molto raccogliere e che potessero essere significativi per l'universo adesso noi stiamo parlando di un sistema con il quale raccogliamo tutti i dati senza scarsità di dati e quindi alcuni guru un po' veloci hanno sostenuto che questo fosse la fine della teoria che la teoria emerga dai dati e dall'osservazione dei dati questa potrebbe essere una tentazione anche in un ambito diciamo specifico come quello di chi si occupa del turismo o del viaggio diciamo potrebbe esserci la tentazione di dire beh allora se questo dei pattern che emergono dal comportamento che osserviamo nei numeri di tutti quelli che vengono in Italia si possono trovare semplicemente osservandoli ci basterà osservarli che avremmo fatto la nostra politica non può essere così non solo per il fatto che l'analisi è comunque complicata e mi piacerebbe tanto che da questo punto di vista ci fosse molta più cultura dalle nostre parti critica perché le correlazioni non sono cause e questo è uno dei classici problemi con i quali ci confrontiamo quando guardiamo questo genere di osservazioni cioè fin dall'inizio dell'analisi delle correlazioni ti spiegano che una delle più grandi correlazioni che storicamente si è sempre verificata è che dove ci sono più medici ci sono più malati e la reazione è di sorridere perché inevitabilmente sembra che i medici causino i malati lui c'è la tentazione poi le tentazioni sono quella cosa nella quale si casca non è quella cosa che si evita ora questo tipo di cultura della distinzione tra cause e correlazioni della osservazione critica dei dati del fatto che comunque i dati sebbene abbondanti sono sempre in qualche modo originati da qualcosa che non è e non può essere privo di distorsioni questo è un primo tema e di fronte a questo la statistica di una volta aveva quelle regole anche legalmente stabilite per cui ogni sondaggio doveva contenere anche le modalità con le quali era stato raccolto andremo in questa direzione sarà necessario che si vada in questa direzione anche qui però a maggior ragione dovranno essere date le avvertenze d'uso per questo genere di cose con trasparenza e molta lealtà nei confronti degli altri perché poi se arriva un giornalista e intercetta un dato lo trasforma da un'ipotesi in una certezza e rovina la conoscenza della gente la seconda questione è che è molto rilevante da questo punto di vista che noi lavoriamo supponendo di aver compreso bene di che cosa ci stiamo parlando effettivamente lavoriamo su un videogioco lavoriamo su una cosa che ti dà dei feedback immediati quindi le azioni che facciamo in un mondo con tanta capacità di osservarsi sono azioni che generano immediatamente delle conseguenze e possiamo immaginare di testare delle azioni facendo osservando quali sono i comportamenti conseguenti questo effettivamente trasforma l'approccio che possiamo avere sulle policy turistiche in una attività sperimentale o in qualche modo simile a un'attività sperimentale questo è un secondo pezzo di cultura sul quale ci dobbiamo confrontare i pregiudizi le rendite di posizione e le forme con le quali la tradizione si trasforma in qualche cosa che ci costruisce una gabbia mentale vanno a confrontarsi con un approccio diciamo anche scientifico nel quale la relazione con le cose che sappiamo è una relazione sperimentale ci sono delle ipotesi si vedono che conseguenze hanno e si migliorano le ipotesi ma al fondo di tutto quello che vorrei dire c'è un'altra questione ed è che di tutto questo non ci esime da fare un ragionamento che non è determinato dalla quantità di dati o dalla capacità di analizzarli ma è determinato da una responsabilità culturale molto più alta ho l'impressione che se riflettiamo bene su quello che diceva Steve Jobs con la sua classica arroganza possiamo cogliere quello che mi sembra che sia da dire a questo proposito lui diceva non è compito del consumatore sapere cosa vuole se uno lo piglia io conosco molte aziende lavorano così dicono faccio un sondaggio cosa vuole il consumatore glielo do tecnicamente questo è paraculismo ma non è strategia e l'idea che non sia il compito del consumatore sapere cosa vuole ci porta alla responsabilità di elaborare una visione questa visione non c'entra non è non nasce dai dati nasce da un'interpretazione della storia nasce da un'interpretazione dei valori di un luogo dei valori della relazione tra chi lo visita e chi ospita da una sorta di interpretazione del futuro di quel luogo e quindi in qualche modo ha a che fare con la teoria se noi siamo abbiamo capito che con tutti questi dati possiamo agire sperimentalmente facendo delle ipotesi e osservando il feedback che il sistema ci dà allora possiamo anche definire la visione che noi abbiamo di un posto dal quale discendono delle strategie anche di come dire di presentazione del posto per il mondo dei viaggiatori che abbia la forma della teoria la visione non è più a questo punto una narrazione di tipo ideologico ma è una narrazione aperta e concretamente confrontabile con i dati e la rispondenza delle conoscenze che ne traiamo quindi questa visione fondamentalmente si trasforma in un'interpretazione che ha una funzione di teoria che ha una funzione di oggetto verificato comunque confrontabile con le conseguenze numeriche e empiriche della cosa la narrazione non può più essere campata per aria e nello stesso tempo diventa enormemente importante grazie volevo solo aggiungere sono ovviamente d'accordo con quello che dici soprattutto sulla tua prima osservazione due cose uno che a modo di battuta è molto facile dimostrare come se prendete un certo numero grande di serie di dati totalmente casuali la probabilità di trovare una correlazione significativa superiore al 95% che vuol dire che ti richiede grande attenzione l'analisi di grandi masse di dati perché molte delle abitudini che noi abbiamo sviluppato negli ultimi 3 o 400 anni vanno cambiate e vanno cambiate anche alcuni degli strumenti che utilizziamo e l'altra è che è tanto vero il fatto che non è vero che avere grandi masse di dati basti che le ricerche più avanzate in questo momento sono proprio sul come combinare in maniera significativa i nostri metodi tradizionali che comunque hanno un senso perché hanno un rigore e un certo tipo di metodologia rigorosamente provato eccetera con le indicazioni che arrivano da qui per tornare al turismo non mi vedo abbandonare le tecniche tradizionali di misurare arrivi presenze e cose del genere quanto capire in che modo dati che troviamo dalle tracce digitali possano migliorare queste misurazioni e queste stime perché in questo momento sappiamo quali sono i problemi arrivi e presenze c'è anche assenze e partenze che apre tutto un nuovo mondo di meditazione euro grazie si condivido ovviamente lo spirito e anche la lettera di quello che avete detto sul primo commento quello dei black box molte di queste cose che abbiamo visto adesso noi sappiamo che funziona non sappiamo perché quindi quando facciamo i modelli di previsione non sappiamo quello che entra sappiamo quello che esce e sappiamo come validare che funzioni ma cosa succede in mezzo quando abbiamo 20 milioni di modelli che danno da mangiare un altro modello che danno da mangiare un altro modello di fatto nessuno ha in qualche modo la percezione questa causa-effetto e quello che succede matematicamente all'interno di questo momento è il ragazzo che lavora con noi che abbiamo rubato l'MIT che è un fisico che si occupa di queste cose qua dice è bellissimo perché queste cose qua non sono inquinate dalla teoria quindi il suo punto di vista è che tutto questo funziona grazie a Dio perché non sono inquinate dal teoria in realtà c'è moltissima teoria dal punto di vista matematico non c'è nessuna teoria dal punto di vista oggettivo del perché io metto dentro questo ed esce quello e com'è che funziona il sistema però è anche vero se tu pensiamo gran parte della medicina gran parte della farmacia gran parte della cucina sono basate su correlazioni correlazioni che hanno funzionato per moltissimi anni e chiaramente continuano a funzionare per cui non è che ci sia niente di strano il fatto che solo correlazioni non è necessariamente vero che siano sbagliate quindi è una di quelle cose con i quali dobbiamo che non siano chiaramente campate esattamente quindi c'è un'attenzione fondamentale a non confondere correlazioni con causalità questo è sicuro l'altra cosa che dicevi prima è che se noi andiamo per esempio con questi dati qua andiamo a confrontare l'effetto della promozione prendiamo tutti gli investimenti di promozione in Italia e andiamo a verificare se gli effetti di questa promozione in Italia hanno un impatto che sia compatibile con quella che è la logica della promozione quindi inizio a promuovere qualcosa dice l'obiettivo è questo metto i soldi in queste iniziative il risultato è questo noi facciamo molta difficoltà a trovare questa relazione di causa-effetto ma anche trovare correlazioni a dire la verità tra la promozione e i risultati sul campo e questo di fatto non è perché non si possa più fare è semplicemente la scelta di non farlo quindi una delle implicazioni principali di questo è che faccio qualcosa vedo se funziona e lo vedo più o meno rapidamente a seconda di quello che faccio quindi quello che è l'Abitesting che si fa sui siti web comunemente si può fare anche nelle politiche non sarà quotidiano sarà in settimana ma non ci sono molti alibi più l'unico alibi è quello di stare lontano dalla capacità vedo gente saltare sulle sedie no ma comunque fondamentalmente questo di scoprire che non ci sono correlazioni è una bella risposta ai feedback non so se posso interromperti perché poi tornerai ma hai accennato al fatto che hai osservato la mancanza di correlazione tra le promozioni cioè i soldi spesi delle autorità locali per fare marketing turistico e il risultato di turisti che effettivamente arrivano in più questo hai visto che non avviene invece hai visto qualche cosa che sorprendentemente avviene cioè i festival funzionano i contenuti hanno un valore relativamente significativo oppure ha più valore che ne so il prezzo il valore il giudizio su TripAdvisor questo non te lo so dire nel senso che molte di queste cose qua che dici te non le abbiamo fatte quello che abbiamo visto invece è che quando hai questi modelli qua sostanzialmente hai un oracolo al quale chiede fare delle domande le domande che fai te non le abbiamo fatte noi ne abbiamo fatte di altre quindi abbiamo chiesto questi modelli qua dimmi qual è il peso delle varie destinazioni nella percezione complessiva del turista d'Italia io vengo in Italia un turista straniero viene in Italia cos'è che determina la percezione di queste cose qua e vediamo che alcune città per esempio determinano moltissimo l'investimento di tempo e di denaro del turista chi va a Roma tipicamente chi viene in Italia e visita Roma tipicamente Roma determina la percezione complessiva del viaggio di questa persona Venezia non è così e poi ci sono chiaramente altri luoghi vi ricordo un paio uno era Pompei l'altro credo fosse il Salento e quando riusciamo a mettere assieme i dati della mobilità con quelli della percezione sui social media questi luoghi qua che hanno pochissimo peso dal punto di vista dell'investimento del tempo invece determinano moltissimo la percezione complessiva dell'esperienza italiana questo sì per cui ci sono dei punti degli agganci molto chiari sui quali possiamo se vogliamo attivare iniziative perché determinano molto più che proporzionalmente quello che poi il turista pensa dell'Italia quando se ne va l'altra cosa che volevo sottolineare è che dobbiamo abituarci non solo in questo settore ma in questo settore all'idea dell'augmentation si dice in inglese l'aumentazione delle nostre attività se sembra strano alcuni di voi sorridevano prima quando dicevo che questa corte americana controllava un algoritmo per decidere se mettere in libertà o meno le persone questo in realtà dobbiamo abituarci così come i medici controllano l'algoritmo prima di dare una diagnosi quindi questo è in qualche modo l'aumentazione di quella che è le capacità nostre quindi dobbiamo abituarci al fatto che consultiamo continuamente degli algoritmi dei modelli di previsione prima di prendere decisioni perché questo è il modello se vogliamo attuale contemporaneo quindi c'è questa se in qualche modo questa tendenza di trasferire parte delle nostre capacità che sono quelle cognitive e ripetitive dalle persone alle macchine e la nostra capacità fondamentale rimarrà quella della creatività quella della strategia quella sarà molto difficile di essere sostituita per cui dicevi anche tu prima tutto questo ha un impatto di lungo periodo se vogliamo che dobbiamo tornare indietro pensare alla teoria dobbiamo pensare alla strategia perché lì è dove facciamo la differenza molte di queste cose qua ormai le possiamo automatizzare sì credo che Watson sia bravo a rispondere alle domande ma non a fare le domande e saper fare le domande resta su questo la verità i giornalisti servono a qualcosa uno può fare su questo sul resto no ma fare domande è forse l'ultimo dei nostri compiti beh ma è una vecchia tradizione docenti bravi cominciano corsi dicendo io non vi do risposte ma vi insegno a fare le domande giuste perché è fondamentale no a mo' di battuta quello che sosteneva un po' di tempo fa Giaz Fesos potrebbe verificarsi lui diceva che prima o poi vi spediremo a casa della roba perché tanto l'avreste comprata comunque beh potremmo spedire dei biglietti e delle prenotazioni perché tanto le prenotazioni le avreste fatte comunque una domanda che mi sembra che possa interessare molti è questa abbiamo visto queste metodologie strumenti eccetera ma sono giochini grossi l'operatore singolo l'albergatore l'agente di viaggi che tipo di capacità può avere o che tipo di accesso può avere a informazioni di questo tipo ovviamente probabilmente non da solo quanto gli costa ovviamente c'è un c'è un fattore di scala qua quindi è un fattore di scala che qualche anno fa era ancora più importante molte di queste cose qua i primi che hanno utilizzato deep learning per esempio questa previsione lungo periodo sono ovviamente google facebook quelli che hanno a disposizione migliaia di server per fare queste cose ed è evidente che nessun piccolo attore può fare questo però è anche vero che questa esponenzialità del calcolo ha anche l'effetto benefico che tutte queste capacità poi diventano sempre più leggere quindi quello che per noi come centro di ricerca era impossibile qualche anno fa adesso invece è estremamente fattibile perché utilizziamo le infrastrutture di amazon per esempio sul cloud per fare questo per cui c'è questa tendenza a democratizzare questo le difficoltà principali sono due uno avere un accesso ragionevole a questi dati qua perché molti dei dati che noi abbiamo utilizzato non sono accessibili alla gran parte delle persone ed è ragionevole che sia così tra l'altro anche perché sono dati sensibili eccetera la seconda cosa invece sono le competenze perché gestire queste cose qua con cognizione di causa non è una cosa che si improvvisa e non è che ci sia che le università lo sai anche te lo so io creiamo queste grandi competenze per fare queste cose qua creiamo delle competenze che sono molto settoriali per cui poi è molto difficile creare poi quelle competenze che sono se vogliamo i traduttori da un problema a un'implementazione con i dati ci sono poche scuole che fanno questo il gruppo che ha fatto la campagna di Obama è uscito ha fatto una scuola a Chicago che fa proprio questo creare quelle competenze legate alla pratica di queste cose qua quindi credo che questa sia la direzione però il gap da chiudere in questo momento è uno dare in qualche modo trovare i meccanismi collettivamente per accedere a questi dati che singolarmente nessuno lo può fare ci deve essere qualche forma di aggregazione e la seconda trovare il modo per accelerare le competenze perché altrimenti quello che vediamo adesso non è un digital divide il digital divide è qualcosa di statico e il digital divide è dal quadrato per cui la velocità la differenza di velocità tra chi sa fare queste cose e chi non le sa fare sta aumentando per cui un gap che si allarga continuamente ed è quello che dobbiamo impedire assolutamente perché altrimenti saranno pochissime che hanno un potere straordinario più che proporzionale rispetto a questi temi sì sì no confermo preparare persone in grado di vivere bene strumenti e soprattutto l'interpretazione di queste cose è difficilissimo anche perché tutti noi e non solo in questo paese ma praticamente in tutto il mondo abbiamo storie storie passate che ci hanno indirizzato verso un mondo singolo l'idea che qui devi mettere insieme gente con delle capacità di analisi quantitativa evoluta ma anche in grado di interpretare un discorso ma anche in grado di capire in maniera qualitativa certi fenomeni è una cosa che è fuori dalla testa della stragrande maggioranza delle istituzioni educative del mondo ed è anche fuori dalla testa della stragrande maggioranza di chi accede all'educazione degli studenti eccetera loro vivono ancora capito con certi schemi precostituiti e questa è una delle grosse sfide sulla quale secondo me le istituzioni potrebbero fare molto sia sulla parte di favorire l'accesso ai dati perché alcuni sono d'accordo sono dati sensibili molto delicati eccetera ma la stragrande maggioranza di questi non lo sono e noi continuiamo a noi io alcuni altri amici a cercare di spingere per l'apertura e le capacità di utilizzo di questi dati qualche risultatino devo dire pian piano si ottiene ma bisogna fare molto di più perché e questo è fondamentalmente il supporto che le istituzioni possono dare loro hanno in mano delle quantità di informazioni pregiate che non si capisce molto spesso per quale motivo non mettano a disposizione se ci sono delle domande questo è mi piacerebbe sentire qualche domanda da voi curiosità pettegolezzi titta faccio anche no mi chiedevo all'interno dell'analisi dei dati ovviamente ci sono anche tra variabili cioè il dato avviene o si presenta attraverso una volontarietà io condivido qualcosa un condizionamento io sono spinto a fare un qualcosa e a produrre una determinata dato eccetera e l'involontarietà che dove vado trasmetto o lascio determinate tracce quanto agile è la reversibilità dei modelli che analizzano queste stratificazioni di dati cioè posso fare avviare quasi un controllo di versione su queste cose per poter confrontare anche l'evoluzione e la loro trasformazione all'interno di un modello di autoapprendimento che di fatto ha descritto si si fa sempre anche perché questi modelli qua hanno la loro valenza nella misura in cui sono verificabili quindi è ovvio che noi teniamo traccia continuamente di tutte le versioni di questi modelli qua in realtà noi facciamo l'A-B testing sui modelli continuamente quindi facciamo questo modello qua da questi risultati facciamo un'altra serie di dati questo modello da questi risultati e così via quello che si tende a fare è introdurre meccanismi di feedback all'interno dei modelli stessi per cui i modelli quelli modelli di previsione che noi abbiamo di fatto funzionano così è come se ognuno di noi prevedesse il comportamento degli altri quindi molti di noi sono buoni predittori di quelli che fanno le altre persone alcuni di noi sono predittori migliori di altri e così via quindi quando inizio a prevedere il comportamento collettivo in una città lancio qualcosa come qualche milione di predittori e vedo quello che succede alcuni di questi dopo qualche passo si dimostrano molto bravi a prevedere altri non sono bravi a prevedere quindi quelli che non sono bravi a prevedere li caccio quelli che sono bravi a prevedere li moltiplico e così via quindi c'è un meccanismo di autoapprendimento al proprio interno che permette ai modelli tipicamente di migliorare col tempo con più dati che ho a disposizione quindi questo si fa tipicamente però l'altra cosa è quello di validare continuamente questo è l'ingresso questo è l'uscita ha rilevanza per capirci quando abbiamo previsto questo numero di persone ad Amsterdam di un milione noi avevamo foto aeree che prendevano la testa di tutte le persone e avevano una stuola di studenti a contare ogni singolo puntino per assicurarci che in quel momento in quella zona i numeri che io ottenevo dei modelli corrispondevano a quello che vedevo sul territorio per cui questa validazione si fa sempre e non è banale grazie allora io più che una domanda volevo dare una testimonianza come docente di statistica qui all'Università di Firenze del problema in sede di formazione di avere accesso a grosse moli di dati perché io già da anni nel corso insegno qualcosa sulle reti neurali per la previsione delle insolvenze aziendali e recentemente mi sono ho pensato che potesse essere utile per i ragazzi è un corso del triennio avere nozione delle problematiche che sorgono nell'analisi di questi dati e abbiamo fatto un semplice supporto online disponibile per tutti in cui se uploadi dei log file vedi un po' quali filtri e quali compromessi devi fare per avere poi dei dati da analizzare però tuttora io non lo so come fare quanto costa avere abbiamo fatto per esempio la mia collega Mattelli si chiama ha fatto delle analisi sulle foto che sono state fatte nel parco delle cascine qui a Firenze quindi sono esperienze che se non abbiamo un partner in qualche modo esterno non possiamo farle il modo significativo quindi era questo semplicemente e ringrazio molto perché diciamo dal mio punto di vista è stata molto molto interessante questa discussione ad alto livello ci riesciamo all'apertura dei dati che è una delle cose che ogni tanto mi viene a me perché a me facendo in parte l'accademico così ogni tanto mi fanno queste obiezioni sulla rete poi io dico facciamo ricerca andatemi i dati non me li da nessuno non saprei dove buongiorno questi giorni su facebook molti tagliano in copia tagliano in colla un messaggio un messaggio non autorizzo facebook a utilizzare i miei dati blivi balava perché se no adesso a prescindere da questo discorso che è anche abbastanza ipocrita tutti vogliamo mettere dei dati su facebook per farli vedere però diciamo no non dovete vederli non dovete utilizzarli la sintesi la mia domanda è ma c'è questa sorta di terrorismo dal mio punto io che sono ottimista spassionato penso sempre la gente più adatti e più mi proporrà qualcosa più inerente a quello di cui ho bisogno invece c'è una tendenza generale a vedere il dato che diamo consapevolmente o inconsapevolmente come qualcosa che possa essere utilizzato non so forse per farci del male per non io non lo vedo mi sembra un pochino più diretto a migliorare la nostra situazione la domanda è ma dobbiamo avere paura di questa raccolta di dati mi verrebbe una battuta che non c'è la Roberta quindi lo posso dire perché si sposta come una guerrigliera si sposta non ti ho sciorbi e sciorciano sepe ecco vecchio detto genovese vogliamo avere delle robe ma non vogliamo da niente non funziona capito non ho capito dicevo la posizione potrebbe essere un lunghissimo discorso quello su privacy etica di quello che hai detto che vuol dire non puoi contemporaneamente soffiare e aspirare quindi se vogliamo avere certi vantaggi qualche cosa dobbiamo dare no comunque sulla questione della privacy si fanno moltissime discussioni quello che quello che bisogna ammettere che i diritti umani sono qualche cosa che non ha a che fare né con la tecnologia né con sono un'elaborazione lunga culturale significativa che obiettivamente dobbiamo riuscire ad affermare anche mentre cambiano le condizioni di contorno tra i diritti umani la libertà di essere lasciati in pace di stare per conto proprio fa parte delle condizioni con le quali le persone si può esprimere e questo è un fatto che va affermato al Parlamento alla Camera c'è stata una commissione che ha a sua volta prodotto una bozza di dichiarazione dei diritti in internet tra i quali naturalmente essendo anche Stefano Rodotà la parte significativa di questa commissione della quale faceva parte un deputato per ogni gruppo parlamentare molti esperti Rodotà la Presidente Boldrini e persino gente come me si è parlato di diritti in internet fondamentali cioè la neutralità della rete l'interoperabilità e le standardizzazioni delle piattaforme la necessità che ogni innovazione legislativa all'interno della rete sia successiva a una valutazione di impatto digitale di quello che si dice e poi ci sono i diritti umani tradizionali come la privacy rinunciare alla privacy come ha suggerito Zuckerberg o Smith solo perché la tecnologia la sposta di contesto è un errore drammatico anche perché è vero che noi singoli individui usiamo le piattaforme come le piattaforme ci inducono a usarli e quindi su Facebook a condividere le nostre fotografie legami e considerazioni su Wikipedia a condividere quello che sappiamo senza apparire troppo personalmente e con le varie piattaforme ci comportiamo come le piattaforme ci inducono a fare ma è anche vero che le piattaforme hanno un modello di business e una loro strategia il caso noto dell'esperimento che Facebook ha fatto sul comportamento delle persone che per un certo periodo di tempo ha mostrato a 600.000 persone soltanto messaggi positivi o soltanto messaggi negativi per vedere appunto se questo aveva un'influenza sul loro comportamento scoprendo banalmente che quando ricevi solo messaggi positivi diventi ottimista e quando ricevi solo messaggi negativi diventi pessimista ha dimostrato anche che può algoritmicamente governare quello che noi pensiamo il che significa che noi di fronte a queste cose non dobbiamo avere paura ma dobbiamo essere consapevoli della manipolazione assolutamente facile che questi possono fare i nostri danni ovviamente in Italia che veniamo da un'epoca televisiva sappiamo che cos'è la manipolazione bene grazie a tutti grazie buon proseguimento di mattinata iniziamo puntolissimi doppio slot Maria grazia buongiorno a tutti intanto diamo un attimo qualche minuto per prendere ancora posto tutti i nostri ospiti sono arrivati grazie a tutti grazie grazie a tutti cominciamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti